Orduna in battuta, la via, Spertole al centro per Podraskanin, il reggito del Re Leone a dire no! Va a forzare su Giavonano, che questa è una gran ricezione, allora se la gioca il secco, la palla fuori misura, può rigiocare Trento, Zenger per Kazinski, palla alta! Il muro di Monza! Per Monza, intanto Podraskanin, murato da Beretta! Intanto Beretta va a murare, Podraskanin pareggia Monza col muro! Spertole, poi Kazinski per la via! Il muro! Tutt'ora sbarata a dire no! Tira giù la Claire! Da Masperetta!